La popolazione del genere umano nel mondo negli ultimi duemila anni è sempre stata relativamente piccola, non più di un centinaio di milioni di persone. Poi circa 150 anni fa è successo qualcosa, la rivoluzione industriale, l'invenzione dei vaccini, gli antibiotici e tante altre cose hanno creato una vera e propria esplosione demografica. Quindi 150 anni da pochi centinaia di milioni, oggi sulla Terra siamo più di 7 miliardi, bello, ma questi 7 miliardi consumano tantissimo e bruciano tantissimo petrolio, carbone e gas naturale. E questo ha creato un problema, un problema molto grosso che potete vedere illustrato in maniera estremamente sintetica in questa figura. Essenzialmente in 150 anni abbiamo bruciato combustibili fossili per un equivalente di 2000 gigatonnellate di CO2 di gas effetto serra. Purtroppo questo ha comportato l'innalzamento della temperatura media del pianeta di più di un grado, che è tantissimo. Ora, il genere umano ha un grosso problema. Noi sappiamo che non possiamo assolutamente superare i più due gradi di innalzamento del pianeta e quindi in qualche modo il genere umano ha una sorta di budget residuo di circa 1500-2000 gigatonnellate di CO2. Ma la cosa più inquietante, preoccupante, che pochi sanno, è che questo budget corrisponde a una piccolissima frazione, molto meno del 10% di tutto quello che è l'equivalente di petrolio, carbone e gas naturale. Quindi la morale è che il genere umano dovrà fare un enorme sforzo di lasciare sottoterra, quindi di resistere alla tentazione, di lasciare sottoterra tutta questa immensa quantità di combustibile fossile che potrebbe trasformarsi in CO2 e quindi in innalzamento della temperatura. Bene, tutti i settori industriali oggi stanno cercando di affrontare questo enorme problema che l'umanità ha. In particolare il settore della mobilità e dei trasporti, che è responsabile di circa 25-30% di queste emissioni, sta cercando di transitare da un vecchio modello di mobilità che essenzialmente possiamo sintetizzare in macchine grosse, a combustibile fossile, di proprietà personale, ovviamente guidate da umani, a un nuovo modello di mobilità completamente diverso in cui le auto saranno mediamente molto più piccole, elettrico e idrogeno, condivise e a guida autonoma. Questi sono i cosiddetti quattro megatrend della mobilità, quindi quello che succederà nei prossimi 20-30 anni. Volevo però sottolinearvi che ne esiste uno di questi che è un po' speciale, che è l'automazione della guida. L'automazione della guida infatti è molto speciale perché fungerà come una sorta di catalizzatore, infatti accelererà la transizione verso una mobilità a servizio, quindi non più auto di proprietà, ma un'auto diciamo condivisa che noi useremo come un'auto pubblica che poi a sua volta accelererà il processo di riduzione delle dimensioni e il completamento del processo di elettrificazione. Quindi in qualche modo l'automazione del guidatore, l'automazione dell'auto sarà una sorta di big bang di questa rivoluzione nella mobilità del futuro. Bene, quello che succederà come conseguenza è che ci sarà una sorta di, chiamiamola, biforcazione. Oggi in Italia ci sono 40 milioni di automobili e sono automobili private e assolvono sia aspetti funzionali, quindi vado da A a B, e anche hanno un aspetto legato al piacere di guida, al piacere di possesso. Bene, questi due aspetti si biforcheranno e verranno nitidamente attribuiti, uno, a delle auto che chiamiamo robotaxi, che avranno un aspetto puramente funzionale, quindi saranno auto autonome, condivise, puramente funzionali, e poi una piccola nicchia di auto emozionali, probabilmente resteranno in proprietà privata, probabilmente, anzi sicuramente rimarranno non autonome e assolveranno un obiettivo essenzialmente di piacere di guida o del piacere di possedere l'automobile. Vi faccio osservare che questa transizione avrà un importantissimo effetto di efficientamento della mobilità. Vi dicevo, in Italia oggi ci sono 40 milioni di automobili, passando a questo modello di mobilità condivisa e autonoma, questo numero diventerà verosimilmente solo 4-5 milioni, quindi un enorme efficientamento e risparmio di risorse rispetto a questo enorme numero di automobili oggi che occupa il territorio e sono essenzialmente poco utilizzate. Come si fa a vedere questo numero? Questa riduzione di un fattore 10 lo si può fare in maniera molto sofisticata oppure in maniera semplice che dà l'idea semplicemente guardando la contemporaneità di utilizzo nell'ora di punta, quindi prendete un qualunque giorno feriale tra le 7 e le 8 e scoprite che in realtà solo il 10% delle automobili sono contemporaneamente usate e questo qui è il picco di utilizzo contemporaneo, quindi c'è questa enorme opportunità di efficientare il sistema di mobilità. Bene, autoautonoma, autoautomatica, dove siamo? Oggi siamo quasi al livello 3, ci sono 5 livelli di automazione, oggi siamo quasi al livello 3. Cos'è il livello 3? Il livello 3 è una sorta di pilota automatico che noi potremmo inserire tipicamente in un ambiente autostradale e a quel punto potremmo effettivamente disingaggiarci legalmente, ufficialmente dalla guida e quindi leggere il giornale oppure mandare i messaggi o leggere la posta elettronica, salvo poi essere reingaggiati nel caso in cui il pilota automatico non sia più in grado di gestire la situazione. Bene, siamo quasi lì, capite che è un passaggio epocale perché in quel momento ci sarà un passaggio di responsabilità e anche di assicurazione fra il pilota umano e il pilota di intelligenza artificiale. Da lì in avanti ci sarà un lungo cammino verso il livello 4 e il livello 5. Il livello 5 è l'auto completamente autonoma, di fatto non avrà più il volante, non avrà più i pedali, è un percorso molto complicato. È un percorso molto complicato perché, se ci pensate, tra tutte le operazioni che noi facciamo, quello di guidare all'interno di un traffico complesso è in qualche modo una delle cose più difficili. Quindi arrivare a un livello di totale capacità di replicare un umano nella guida richiederà ancora 10-15 anni. È, diciamo, la sfida tecnologica di gran lunga più grande che tutto il mondo dell'automotive dovrà affrontare nei prossimi 10-20 anni. Volevo citarvi a tale proposito un evento un po' particolare che è capitato quest'anno, c'è stata la nascita del cosiddetto motorsport autonomo, cioè la gara fra auto, completamente autonome. Ve lo cito perché non è solo un gioco, un qualcosa per fare entertainment, ma di fatto rappresenta un'importante piattaforma di sviluppo di cosa? Di quelle situazioni molto difficili, quindi casi cosiddetti di emergenza. Pensate in autostrada, alta velocità, tante macchine, bassa aderenza, succede qualcosa di inaspettato, un'auto autonoma su cui sarete seduti fra qualche decina di anni deve decidere cosa fare in maniera molto rapida in quel momento. lì. Bene, il racing autonomo ci aiuterà per risolvere questo problema, molto raro ma estremamente complicato. Bene, arrivati a questo punto, in realtà volevo cambiare pagina. Ho parlato fino adesso di mobilità fisica e come si evolverà, ma in realtà noi sappiamo che già prima della pandemia era un processo in corso, ma la pandemia l'ha enormemente accelerato, cioè il processo verso la cosiddetta mobilità virtuale. Cos'è? È facile da capire, non si muovono più, non ci muoviamo più fisicamente, ma si muove la moce, le immagini e magari attraverso ologrammi la nostra figura tridimensionale. Quindi questa è la mobilità virtuale che potenzialmente sostituisce la mobilità fisica delle persone. Quindi se da un lato la mobilità fisica avrà un processo di, fatemi usare questo neologismo, uberizzazione, cioè verso una mobilità a servizio, dall'altro lato probabilmente si espanderà molto rapidamente un altro tipo di mobilità che anche qui con un neologismo fatemi chiamare amazonizzazione. Cosa vuol dire? Le persone si muoveranno sempre di meno, ma a questo punto gli oggetti dovranno raggiungere le persone e quindi ci sarà una crescita esponenziale già in atto, diciamo, di tutto quello che è il trasporto e la mobilità della logistica. Quindi non si muovono persone, ma si muovono effettivamente le cose e quindi aspettatevi in futuro che la tecnologia svilupperà non solo autoautomatiche, autoautonome che ci trasportano, ma anche oggetti per trasportare in maniera completamente automatica le cose. Quindi vedete qui o piccoli robot che consegnano la pizza, oppure in maniera un po' più visionaria, qui vedete una visione della Continental, addirittura il cane rodo a postino che vi consegna il pacco nella cassetta delle lettere. Facciamo un gioco, proviamo a immaginarci, avere la possibilità di proiettarci fra trent'anni in una delle nostre città e ci domandiamo cosa vedremmo, cosa potremmo vedere, che scenari potremmo vedere. Ve ne propongo due, ve ne propongo due, poi quale sarà quello giusto lo scopriremo fra trent'anni. Scenario numero uno, questo. Le città saranno sgombre dalle macchine, ce ne saranno poche, piccole, elettriche, automatiche, estremamente sicure, quindi non colpiranno bambini, cani, biciclette, eccetera eccetera, città libere per la cosiddetta mobilità dolce o la mobilità attiva, quindi andare a passeggio, usare le biciclette, le biciclette elettriche, gli scooter e così via. Quindi scenario numero uno. C'è un secondo scenario nel quale invece avrà in qualche modo vinto, avrà preso il sopravvento la mobilità digitale e quindi vivremo la nostra mobilità in mondi paralleli abitati da avatar, da metaversi e cose di questo tipo. Vi faccio notare che in questo secondo scenario, più o meno inquietante, qui ognuno può dire la sua, non esprimo giudizi, ci sarà il paradosso di città che saranno fittamente popolate, ma paradossalmente con le strade probabilmente deserte, perché tutto andrà verso una mobilità virtuale. Ovviamente ci saranno i piccoli robot che porteranno le pizze a casa, ma sostanzialmente le strade saranno deserte dalla mobilità delle persone. Ci sarà un altro motivo, molto probabile questo, per cui le città in qualche modo si svuoteranno della loro popolazione o comunque verrà invertito un trend, lo vedete in questa figura, negli ultimi 50 anni c'è stato un incessante trend verso l'urbanizzazione. Cioè le persone si sono progressivamente sempre spostate dalle aree rurali alle città. Bene, è molto probabile, e il post pandemia lo sta dimostrando, che ci sarà un'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza verso le aree rurali. Perché? Perché ci sono e ci saranno sempre di più lavori che possono essere fatti in modo completamente digitale. E a quel punto un lavoro completamente digitale, diciamo, permette al lavoratore di essere completamente distaccato, destrutturato rispetto al luogo di lavoro. Queste nuove figure vengono anche detti nomadi digitali, perché si possono permettere il nomadismo, il loro lavoro non cambia, è sempre lo stesso, ma di fatto non è associato a una precisa posizione geografica. E a questo punto questi nomadi digitali, questa nuova categoria di lavoratori, nomadi digitali, potrà tranquillamente permettersi di decidere di ritornare in campagna. Quindi potremmo vedere le nostre città depopolate, ripopolate delle campagne, ma non di contadini, ma di questi nomadi digitali che essenzialmente lavoreranno con strumenti digitali davanti a un computer. Una provocazione, una domanda. progettare e definire oggi un grosso parcheggio cittadino, che magari verrà deliberato fra due anni e verrà costruito e finalmente messo in opera verso la fine di questo decennio. È una buona idea? Pensateci su o ragionateci sopra. Grazie. Grazie.